A quasi un anno di distanza dalla risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, Carichietti e Cari Ferrara arrivano i primi rimborsi forfettari all'80% per alcuni dei bondisti subordinati, azzerati lo scorso 22 novembre a seguito del decreto salvabanche seguiti da Feder Consumatori di Arezzo. Sono circa una ventina gli obbligazionisti subordinati che hanno ricevuto l'indennizzo forfettario. Si sperava che poi quello che si asseminava qualcosa dopo nascesse e infatti qualcosa è nato, il rimborso è avvenuto e io dico la verità pensavo che fosse anche un po' più lungo e invece ieri perlomeno la mia mamma ha avuto la sorpresa che sono arrivati. Insomma qualcosa si è ripreso, augurandoci che poi c'è il 20% che sembra che si possa anche quello recuperare, però quando non si sa. L'operazione di indennizzo forfettario gestito dal fondo interbancario prosegue appena in regime, a qualche mese dal suo avvio. Ad oggi sono state inviate da parte di Feder Consumatori di Arezzo al fondo interbancario oltre 1.200 istanze di rimborso, su un totale di oltre 2.000. La macchina è in moto, entro il mese di novembre, massimo il 5 di dicembre presenteremo tutto e la parte, diciamo così, relativa ai rimborsi, la presentazione delle istanze, per noi a questo punto sarà terminata. Noi ci auspichiamo, riescono a rispettare per tutti questa scadenza. E' vero che un anno può parire poco, ma in realtà se si pensano a tutte le vicende, a tutto ciò che si è innescato in questo meccanismo, far aspettare oltre i tempi previsti dalla legge di conversione, entro i quali debbano essere elargiti i rimborsi, sarebbe una riattura legata al fatto che per alcuni, per alcuni ancora non sappiamo quando sarà possibile presentare anche la stessa domanda per fare una missione all'arbitrato perché le regole non ci sono.